Il progetto di fusione della nuova Pescara arriva fino al governo nazionale. Il Movimento 5 Stelle, infatti, con la deputata Valentina Corneli, coinvolge il ministro dell'Interno e il ministro per gli affari regionali e le autonomie, affinché la più grande fusione d'Italia diventi parte dell'agenda nazionale di governo. Appena prima della pausa natalizia, su segnalazione dei pentastellati, la deputata si è fatta portavoce presso il ministro dell'Interno Luciana Lamorgese, il sottosegretario Sibilia e il ministro per gli affari regionali e le autonomie, Maria Stella Gelmini, segnalando la necessità che il caso nuova Pescara acquisisca la rilevanza nazionale che merita l'importanza propria della più grande fusione mai avvenuta su tutto il territorio nazionale. Stiamo cercando di alzare l'attenzione perché il tempo stringe, la questione è molto molto importante, molto complessa e quindi è necessario che anche a livello nazionale ci si occupi del caso perché effettivamente è un caso nazionale. Le criticità sono sicuramente organizzative, tecniche, logistiche, non è semplice anche perché, vi ripeto, è il caso a livello dimensionale più importante che ci sia mai stato in Italia, non ci sono precedenti. Quindi bisogna fare tutte le valutazioni del caso e bisogna farle per tempo perché c'è un termine che si avvicina sempre di più. Le commissioni hanno lavorato ma grazie allo spirito di intraprendenza di alcuni commissari che per fortuna sono stati presenti in modo da garantire l'apertura delle commissioni ma non purtroppo ultimamente delle ultime due sedute dell'Assemblea Costitutiva. È importante invece che ci si assuma la responsabilità del proprio ruolo di costituenti in questo caso e quindi per questo abbiamo sollecitato Valentina Corneli a occuparsi anche di eliminare, diciamo, di spuntare le armi di tanti detrattori che negli anni sostengono che la mancanza, ad esempio, di un permesso lavorativo impedisca la possibilità di partecipare appunto a queste attività, diciamo, formative per la nuova Pescara. Quindi alle attività di commissione e alle attività costituenti dell'Assemblea. Grazie. 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 Grazie.